La regione toscana è ancora interessata all'acquisto di Villa Ragionieri, lo ha detto l'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi in merito alla polemica con Unipol Sai sul centro oncologico e servizio. La regione toscana è ancora interessata all'acquisto di Villa Ragionieri e lo formalizzeremo con una nota a Unipol Sai. Crediamo che quella sia una struttura che possa diventare importante in una rete pubblica per i servizi oncologici nell'area vasta centro della Toscana. Così l'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi in merito alla polemica con Unipol Sai sul centro oncologico di Villa Ragionieri. Ieri Unipol Sai aveva annunciato la chiusura del centro oncologico fiorentino motivando la decisione con la sfumata cessione della clinica alla regione toscana. Vogliamo andare avanti sulla possibilità di acquisire al patrimonio pubblico Villa Ragionieri, ha aggiunto Saccardi parlando a margine di un'iniziativa. In ogni caso ci stiamo muovendo per garantire ai lavoratori della struttura un futuro alle stesse condizioni contrattuali che avevano con Unipol Sai. Saccardi ha auspicato che si possa riaprire la trattativa anche sul tema della procedura di acquisto della struttura. Naturalmente le procedure vanno fatte con la massima garanzia di trasparenza perché noi siamo un ente pubblico e siamo tenuti a giustificare come le risorse pubbliche si spendono.